La causa è l'unica ragione per cui hai chiesto il divorzio? C'erano molte ragioni. Per te era... finita. Molto tempo fa. Sto parlando di te. Mettiamola in modo diverso. Io volevo provarci un'altra volta. Stavo per chiederti se potevamo riprovarci e tu hai detto voglio il divorzio. Voi terra... Fai la proche... Voi... Voi terra...